buongiorno ragazzi questa sera faremo l'ultimo master of hospitality nella mega hospitality della red bull che è un palazzetto di 1200 metri quadri e che per costruirlo viene spostato con 36 camion questa è la penultima delle cene gourmet di prosecco doc la prossima sarà a barcellona nell'ospitali della rnf vediamo come andrà e poi a misano ci sarà la premiazione della sfida diciamo buona serata buona serata buona serata buona serata buona serata Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo a domenica mattina, adesso aspettiamo di vedere la gara, la scena ieri è andata benissimo, peraltro Jack Miller si è dimostrato un cuoco, se non eccezionale, incredibilmente simpatico come sempre. Appuntamento fra due settimane a Barcellona per l'ultimo Master of Hospitality by Prosecco. Ciao.